Buongiorno e benvenuti. Come il roll up attesta siamo qui per ricordare un momento particolare della vita e della storia giudiziaria di questo Paese. L'Unione delle Camere Penali, con la Camera Penale di Roma e con la Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora hanno deciso di ricordare stamattina, il 17 giugno del 2023, esattamente a 40 anni dagli accadimenti, uno dei momenti più bui della storia giudiziaria di questo Paese, che coincide e corrisponde con l'arresto di un galantuomo che era Enzo Tortora. Ci sono tanti modi per affrontare il problema e per discutere di quello che è avvenuto e di quello che è successo in funzione di quell'arresto e di quella vicenda giudiziaria. E molti di questi modi sono stati già percorsi, sono stati già declinati in questi 40 anni. Ma c'è un modo che forse può dare ancora un senso a questo ricordo e che fa di questa giornata un momento particolarmente importante. Questa deve essere una giornata di testimonianza. Noi avremo interventori che analizzeranno le questioni sotto diversi punti di vista, con delle relazioni specifiche dai diversi aspetti e dalle diverse prospettive che essi hanno vissuto. Io vorrei portare un piccolo contributo, se mi è consentito, che è un contributo di carattere emozionale, che vuole essere la testimonianza di quello che accadde a me nel momento in cui la vicenda di Enzo Tortora si consumava o incominciava a consumarsi. Io ero un ragazzino di 13 anni, nell'83, quando Enzo Tortora veniva tratto in arresto, proprio qui davanti, in un attimo con i ferri ai polsi si provava a togliergli la compitezza e l'eleganza che lo aveva caratterizzato nella sua vita fino a quel momento. Quella sera noi ascoltavamo, aspettavamo come sempre, io ripeto a 13 anni era un momento di incontro, il venerdì sera Portobello era un momento per tutti noi di raccoglimento, di fronte a questa che ancora si chiamava Rete 2 se non ricordo mai. Quella sera noi Portobello non lo abbiamo sentito, la sigla non l'abbiamo ascoltata, ci siamo domandati perché, riaffiorano dei ricordi di quel momento. Quello che voglio dirvi è che accadde qualcosa alle 4 del mattino di quel venerdì 17 che sovvertì il mio orizzonte di ragazzino e lo sovvertì in un attimo senza che io nemmeno me ne rendessi conto. Questa storia, la storia di Enzo Tortora, contiene in sé tutto quello che la vicenda processuale e la vicenda informativa per gli anni a venire hanno ancora testimoniato. Questa è la storia di un tragico errore giudiziario, è la storia in parte antelitteram di un rapporto perverso tra l'informazione e la giustizia penale di questo Paese, nel quale anche quando sembra che sia la giustizia penale a governare il processo in realtà è la regola della notizia veloce, sensazionale e non importa se è fondata a segnare i bordi del campo. E' la storia di una protergia investigativa che non si arresta nemmeno quando ormai è evidente che la nave sta affondando e che infligge al soggetto malcapitato, in questo caso Barbano lo chiamerebbe la ciliegina sulla torta, cioè Enzo Tortora, infligge una sofferenza dalla quale talvolta capita, spesso capita, di non riprendersi più. Voi del processo sapete tutto, noi ne abbiamo parlato tantissime volte, quindi stare a ripercorrere quelle tappe non ha nessun senso e soprattutto chi interverrà dopo di me avrà sicuramente migliori argomenti e migliori prospettive. Ma la cifra di ciò che voglio dirvi oggi è questo, il mio orizzonte di ragazzino fu sovvertito in un attimo da un vociare infinito, da un coro unanime di soggetti che additavano Enzo Tortora come responsabili di quelle malefatte. Insomma, quel circo mediatico si era messo in moto e io non dubitai nemmeno per un attimo di essere stato gabbato da Enzo Tortora negli anni precedenti piuttosto che del contrario. Poi me ne sono pentito molti anni dopo e voi mi direte che non c'è colpa nel cuore di un ragazzino di 13 anni, è vero, però io sentirei tutta la colpa se oggi non fossi qui a testimoniare quello che è accaduto. Che lo testimonio può significare poco, ma io faccio quel poco che posso. Ci sarebbe tanta responsabilità, se non chiarissimo, sempre, quotidianamente, con fronte metallica, che quel meccanismo che si innescò al momento dell'arresto di Enzo Tortora non è un meccanismo isolato e non è stato un meccanismo casuale, quello è un meccanismo voluto e chi lo nega o è in mala fede o è stupido. Se noi non sapessimo riconoscere la replica quotidiana di quel meccanismo, che oramai da 40 anni ci troviamo ogni mattina, sui giornali, sulle televisioni, sulla stampa, se noi non facessimo quello che possiamo ogni giorno per testimoniare che si è trattato di un misfatto e che il misfatto si ripete quando l'attenzione si abbassa, ecco allora noi potremmo dire, dovremmo dire di essere in parte responsabili. Io mi sentirei responsabile soprattutto se non spiegassi o se non avessi spiegato a mia figlia quello che è successo. Io glielo ho spiegato in un modo diretto, regalandole una copia del libro di lettere a Francesca e l'ho vista piangere nel leggerlo, ma è stato un pianto per me doloroso ma anche liberatorio. Ecco io credo che il senso di questa giornata, al di là dei commenti di fatto e dei commenti concreti, delle ragioni che ci spingono a stare qui, sia esattamente questo. Continuare a testimoniare il ricordo di un evento drammatico che è un evento che si ripete, che si replica e che quotidianamente travolge e distrugge la vita di molte persone. Vorrei che tutti noi ricordassimo, sarebbe bello che tutti noi ricordassimo e chi non l'ha conosciuto lo scoprisse, lo conoscesse e comprendesse quello che è accaduto ed è per questo che noi oggi siamo qui e vi ringrazio di essere così numerosi. Detto questo, e quindi avendo avuto l'onore e l'onere di introdurre un parterre di tutto rispetto, chiamerei a intervenire il Vice Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, l'Avvocato Paola Rubini, alla quale do volentieri la parola. Grazie Beppe. Io ero una ragazza che si avviava a iscriversi a giurisprudenza e ricordo benissimo la sensazione di annullamento della personalità di un uomo. Non mi interessava in quel momento se potesse essere effettivamente colpevole o innocente. Il senso di scoramento, di annullamento della giustizia lo percepì subito e capì che la mia strada era essere una persona che studiava la legge e che voleva difendere la legge e che voleva difendere i cittadini che alla legge violenta a volte sono soggetti. Io in Enzettortra ho visto due particolarità. Lui era ed è stato ed è simbolo della ricerca di verità e di giustizia a tutti i costi, fino all'ultimo respiro. Egli era ed è ed è stato emblema della deriva giustizialista, un'icona che rimane scolpita tra le più brutte pagine della giustizia italiana. Lui ha avuto anche la funzione di farci capire i fatti, di interpretarli, di coglierne anche le implicazioni remote e di scorgerne le conseguenze sociali. Lui è sempre andato a fondo utilizzando la sua vicenda personale per far capire a chi lo ascoltava anche i giudici che lo giudicavano, quali erano le conseguenze di quella violenza che stavano perpetrando i suoi danni. Quest'anno, anche quest'anno, ricordiamo i cent'anni della nascita di Leonardo Sascha. Si sono conosciuti, Sascha è stato uno di quelli che non lo ha condannato assieme a pochi altri. E lui, Leonardo Sascha, il 7 agosto del 1983, dopo poco, scriveva sul Corriere della Sera. E' un caso eclatante di alterazione della verità. E' la lucida e amara constatazione dell'uso alterato della legge in un Paese che non solo ha perso il senso della giustizia, ma ha distrutto con la vita di un uomo la sua stessa civiltà. E' un tema ancora attuale. Noi, evocati penalisti, ce ne rendiamo conto quando assistiamo i nostri clienti. La fiducia accordata dai magistrati ai pentiti può condurre ancora oggi, come allora, a risultati paradossali e dannosi. L'arresto di un cittadino innocente e totalmente strano ai fatti. Queste ordinanze di custodia cautelare a strascico, in cui si prende un mucchio, si prende un mucchio di 500 persone, poi 200 devono essere liberate di lì a qualche giorno. Però intanto la deflagranza e le conseguenze indelebili nella vita delle persone e delle famiglie si sono ormai già rappresentate e verificate. Allora io dico che oggi e sempre dobbiamo difendere Tortora per difendere il nostro diritto, il diritto di ogni cittadino a non essere privato della libertà e a non essere esposto al pubblico ludibrio senza convincenti prove della sua colpevolezza. I ferri mostrati ma anche i video curiosi, morbosamente curiosi, delle case delle persone che vengono arrestate, quelli diffusi dalla polizia giudiziaria in sede di perquisizione. Anche questo è un dato a cui assistiamo tutti i giorni e che vogliamo e combattiamo perché ciò non accada. Allora Enzo ha voluto che ci fosse scritto che non sia un'illusione, assieme al testo La colonna infame con la perfezione di Leonardo Sciascia, ma quel che non sia un'illusione è perché richiamava una frase di Enzo, speriamo che il mio sacrificio sia servito a questo Paese e che la mia non sia un'illusione. Continuiamo a pensare che non sia un'illusione, però non dobbiamo darla per scontato. La carcerazione è quindi come strumento per estorgere la confessione, ma anche come pena preventiva prima del processo, prima della condanna, se ci sarà. Prima le manette e poi le prove. Non è così, non sarà mai così finché noi saremo qui. Grazie. Grazie Paola. Vorrei che venisse sul palco Francesca Scopelliti, che non avete bisogno che vi dica chi è, e quindi a cui do volentieri la parola. Grazie, grazie a tutti. Dal 1988, dopo la morte di Enzo, avendo avuto da lui, come dire, il testimone di questa battaglia per la giustizia giusta, ho avuto tanti incontri e ho detto tante cose che andavano dette. Oggi, in questa data, è importante perché sono 40 anni dall'arresto di Enzo, 40 anni che si sono persi nel nulla, che non hanno consigliato delle riforme, analizzato il caso Tortora, trovare qual era la causa e poi la terapia. Ancora una volta siamo qui a parlare di Enzo, a rappresentarlo, proprio perché la memoria diventa fondamentale. Beh, insomma, dico, dopo tante cose che ho detto, oggi per ricordare questa data voglio dare la voce alle parole di Enzo Tortora. Quella notte all'hotel Plaza sentì bussare alla porta, o così almeno mi parve, perché stavo dormendo e quel rumore potevo averlo sognato. Ma i colpi, due o tre, brevi e leggeri, si ripeterono. Allora mi alzai, andai verso l'uscio al buio e chiesi chi è? Risposta Carabinieri Rimasi un attimo interdetto, accesi la luce, sbirciai l'orologio che porto sempre al porzo e vidi che segnava alle quattro e un quarto. Aprì I carabinieri erano tre o quattro, non ricordo. Entrarono di corsa e si misero immediatamente a rovistare la camera. Spalancarono l'armadio, aprirono una valigia, si impossessarono di un'agenda telefonica. Ma cosa fate? Chieso. Perché state mettendo tutto sotto sopra? Risposero solo che avevano avuto ordine di perquisire la mia stanza e di sequestrare tutto. Poi mi dissero di vestirmi, di prendere un po' di roba, avrei dovuto seguirli. Quel che stava succedendo in quella stanza dell'hotel Plaza, un vecchio albergo nel centro di Roma che frequento da quasi vent'anni, mi sembrava così assurdo che non avevo neppure la forza di pensare. Scendemmo con l'ascensore nella hall deserta, l'attraversammo e avvicinandomi alla porta girevole dell'albergo notai che il portiere di notte, un uomo di una certa età e che mi conosceva da molto tempo, se ne stava dietro al banco della ricezione con la testa bassa. Quando gli passai davanti, l'alzò e disse Mi dispiace. Fuori era buio e non passava nessuno. Dinanzi all'albergo in via del Corso sostava un'alfetta con il motore acceso, sedetti sul sedile posteriore e due carabinieri per esero posto al mio fianco e l'automobile partì verso Piazza Venezia. Non so descrivere come mi sentivo dentro mentre la macchina correva e non so a un certo punto però mentre la macchina correva la macchina correva e lo portò nella caserma dei carabinieri di via in Selci e ritroviamo Enzo lì sempre con le sue parole. Non so quanto tempo rimasi lì immobile in attesa, a un certo punto chiesi ma adesso dove mi porterete? In galera? Ma dove? A Regina Celi. E cosa aspettiamo? Non ebbi risposta ma dopo un attimo capì cosa aspettavano. Aspettavano che arrivasse il pullman della televisione con gli operatori aspettavano che ci fosse un bel po' di gente anzi tanta gente e alla fine comparvero due carabinieri in divisa con la camicia cacchi e la bandoliera a tracolla. Mi mettete le manette chiesi? Certo rispose l'acciuga d'acciaio era uno dei carabinieri più magri e tac tac mi sentì a manettare. I due carabinieri mi portarono fuori e fuori cominciò la mia via Crucis scorsi il pullman della televisione posteggiato a dieci passi gente che urlava fotografi che mi scattavano i loro flash in faccia giornalisti che tendevano i microfoni. Un cronista della RAI indagò ma forse avrei avuto qualche incontro un momento di disattenzione per cui puoi essere stato in contatto con la camorra senza volerlo qualche assegno mai mai urlai e a un altro imbecille che mi seguiva con un taccuino in mano disse seguitelo seguitelo con attenzione questo caso vergognoso questo mostruoso caso di errore giudiziario. Sentì gli operatori della RAI TV che gridavano i polsi i polsi e notai che me li inquadravano con primi piani qualcuno sbraitò ladro un altro ma scalzone e poi farabutto faccia di merda ipocrita camminavo accecato dai lampi dei fotografi riuscì solo a vedere una donna in disparte che piangeva e ricordo che al sillato dalle domande dei cronisti continuavo a ripetere mai 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 ero solo un uomo preso di notte accusato di non so cosa e buttato in una macchina salì su un'altra automobile che partì di scatto e in omaggio al culto del rumore e della volgarità tipicamente italiana azionò la sirena passammo col semafero verde col giallo persino col rosso a velocità supersonica come se dentro quella macchina ci fosse chissà chi chissà cosa e tutto fosse stato risolto alla fine arrivamo a Regina Celi e qui passa una lettera che Enzo mi scrive la prima lettera che Enzo mi scrive dal carcere mia cara Francesca spero di far uscire questa lettera qui è tutto infinitamente assurdamente difficile burocratico lunare mi tiene in piedi solo la volontà di dimostrare a quelli che amo di essere innocente e di uscirne a testa alta ma è stato atroce Francesca uno schianto che non si può dire ancora oggi chiuso in questa cella 16 bis con altri 5 disperati non so capacitarmi trovare un perché una ragione trovo solo un muro di follia se è possibile questo Francesca è possibile tutto sono cambiato dentro credimi sono diverso amaro distrutto se resisto lo faccio per un orgoglio disperato e per dimostrare a tutte le persone che mi stimano e che mi hanno amato a te a tutti che non sono un gangster mi verrebbe da ridere se le manette non fossero vere e la cella autentica se le notizie emesse sul serio non so se domani giorno dell'interrogatorio il tuo buondio o i miei dèi o la rabbia lucida che mi divora mi daranno la forza di convincere i magistrati che hanno preso un abbaglio mostruoso che è tutta una montatura ma di chi e che questo è solo un incubo terribile ma il male è fatto è il lavoro polverizzato sarà lungo forse improbabile ricostruire la verità perché io non voglio mezze misure voglio battermi fino alla fine per uscire pulito non so niente credimi te lo giuro con le lacrime agli occhi è come se mi avessero catapultato sulla luna ti stringo forte al cuore ma non ti nascondo ho paura per la prima volta in vita mia ho paura sei giovane cambia paese questo non esiste più se è possibile annientare un innocente così è possibile tutto queste le parole di Enzo in quel momento a Enzo scoppiò quello che lui disse una bomba al cobalto un male che lui diominò a dispetto di chi lo voleva camorrista lui si fece leader politico di una grande battaglia per la giustizia a sostenerlo Marco Pannella Francesco Rutelli che ebbe l'idea di candidarlo alle elezioni europee di Emma Bonino che per quella candidatura venne a Milano per raccogliere l'ultimo giorno disponibile la firma di accettazione della candidatura assolti poi alcuni irrinunciabili impegni il riconoscimento della sua innocenza quindi l'assoluzione la visita di tutte le carceri italiane il ritorno in tv dunque dove eravamo rimasti vinto il referendum sulla responsabilità dei magistrati quella bomba al cobalto prese il sopravvento ed Enzo morì il 18 maggio 88 per un tumore ai polmoni erano trascorsi 59 mesi 1782 giorni mesi e giorni dovuti a un crimine giudiziario non chiamiamolo errore l'errore commesso da chi è inconsapevole di quello che fa a Napoli i giudici magistrati di Enzo sapevano di perseguire un innocente e anche l'orrore non è che sia la definizione giusta parliamo di crimine giudiziario per il quale nessuno ha pagato e da 35 anni mi chiedo e oggi chiedo a voi se è accettabile che in un paese democratico in uno stato di diritto sia accettabile morire di mala giustizia grazie grazie Francesca e lo spaccato sull'aspetto umano cioè quello che succede di fronte a una tragedia di queste dimensioni vorrei che venisse al microfono l'onorevole Enrico Costa di azione per un intervento grazie a te grazie io sono grato dell'invito ma veramente sono grato dell'invito perché è un'occasione questa per tutti noi per riflettere su cosa ci ha insegnato cosa ha insegnato al nostro stato la vicenda di Enzo Tortora ebbene io penso che abbia insegnato molto poco perché questa vicenda dimostra come nella giustizia nella magistratura il concetto di indipendenza molto spesso venga confuso con il concetto di assenza di responsabilità non dico voglio dire irresponsabilità ma quando il ministro della giustizia affronta il tema delle azioni disciplinari in termini generali io poi devo dire quella specifica non la condivido ma troviamo l'associazione nazionale magistrati che ci dice e no mini l'indipendenza della magistratura ebbene l'indipendenza della magistratura io penso sia garantita anche da un percorso interno volto a diciamo dare delle risposte di fronte alle criticità dal 2012 dal 2010 ad oggi ci sono state otto condanne per responsabilità civile dei magistrati otto condanne ci sono state nell'ambito delle valutazioni di professionalità dei magistrati il 99,6% di valutazioni di professionalità positive le azioni disciplinari sono iniziate moltissime 1600 1700 quasi 2000 l'anno quasi tutte archiviate dal procuratore generale della Cassazione De Plano perché non c'è un soggetto diverso salvo il ministro della giustizia che può chiedere gli atti che le vaglia ecco sul tema delle ingiuste detenzioni lo scorso anno il ministro della giustizia ha avviato una sola azione disciplinare conclusasi con il non doversi procedere è evidente che di fronte a tutti questi numeri non c'è una risposta da parte dello Stato una risposta seria ovviamente non ci deve essere nulla di demagogico ma questo io penso che debba essere un tema da mettere all'ordine del giorno in questa legislatura e lo dico alla luce anche di una considerazione e di una lettera molto toccante che ha fatto Enzo Tortora e che ha mandato durante il suo periodo in carcere a mio papà erano molto amici mio papà era un esponente del partito liberale e gli scrisse caro Raffaele oggi so cose che mai avrei sospettato ma ciò che più mi indigna a parte la stregonesca medievale iniquità del rito è questa giustizia in ferie come una rivendita di gelati e questa spazzatura umana tale è la considerazione del cittadino per certi giudici spazzatura umana lasciata fermentare nei bidoni di ferro delle carceri pieni di disperati di non interrogati di sventurati e di come me innocenti fate qualcosa ve ne prego ebbene mi pare che sia stato fatto poco dopo questa vicenda dal punto di vista normativo oggi stiamo a discutere come se ci fosse un come se ci fosse una riforma epocale di poche giuste devo dire nella direzione giusta proposte del ministro nordio ma io penso che altre ben altre possano essere le riforme che possano affrontare il tema della giustizia in una chiave liberale e in una chiave di civiltà giuridica vi ringrazio ancora molto per questa occasione che mi avete dato grazie a te Enrico per il tuo contributo è un piacere chiedere di intervenire al past presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane l'avvocato Beniamino Migliucci grazie Beniamino grazie per l'invito era un invito al quale evidentemente non potevo mancare noi oggi ricordiamo i 40 anni dall'arresto di Enzo Tortora io non vorrei che si pensasse che questi incontri sono fatti esclusivamente per rammentare un fatto di mala giustizia io credo davvero che quello che capitò a Enzo Tortora dovrebbe essere raccontato nelle scuole dovrebbero conoscerlo i bambini dovrebbero capire perché si è verificato quel fatto ora si è detto qualcuno ha detto le cose non sono cambiate di molto beh non è così vedete il sacrificio di Enzo Tortora e di altri uomini che hanno subito ingiustizie ha consentito per esempio di comprendere come il codice inquisitorio autoritario fosse un codice sbagliato un codice dove le prove venivano raccolte in una stanza dal pubblico ministero o se andava bene da un giudice istruttore che svolgeva sostanzialmente il ruolo di pubblico ministero è cambiata la costituzione l'articolo 111 della costituzione che prevede che le prove debbano essere raccolte davanti a un giudice imparziale e che dovrebbe essere anche terzo e dunque separato nella carriera con la parità delle parti vedete che il sacrificio di Enzo Tortora che non avrebbe dovuto esserci ha portato a una riflessione una riflessione che è stata per lungo tempo contrastata ancora adesso c'è chi invoca il carcere prima di una sentenza definitiva di condanna ancora adesso si ritiene che il carcere sia la soluzione dei problemi vedete in quella storia nella storia di Enzo Tortora c'è un po' di tutto c'è l'idea che la presunzione di innocenza debba e possa essere calpestata ma perché una persona che fino a quel momento si era ben portata nella società doveva essere arrestata prima di capire se questa persona fosse colpevole o innocente per quale ragione tutte le prove a discarico dovevano essere svalutate in primo grado per quale ragione i giudici della Corte di Appello che lo assolsero e in particolare il relatore che ricordo essere Morello il consigliere Morello credo che sia stato uno dei pochi giudici che si occuparono della vicenda che non è stato promosso tutti gli altri grazie al loro errore sono stati promossi hanno occupato cariche fenomenali e questo ci porta al di là della responsabilità civile dei magistrati ci porta a chiedere ma perché chi sbaglia fa carriera e non c'è mai un intervento serio per capire ad esempio anche nel disciplinare che non tutti sono bravi prima Enrico Costa ricordava che nelle valutazioni il 96% il 98% dei magistrati sono bravi beh probabilmente c'è qualcosa che non va probabilmente bisognerebbe anche che nei consigli giudiziari gli avvocati potessero esprimere il loro parere su quello che è la capacità del singolo magistrato qualche anno fa se non sbaglio Francesca nel 2015 convincemmo Francesca a pubblicare le lettere che Enzo le inviava dal carcere Francesca ci ha pensato un po' e il suo è stato un gesto di generosità quando la convincemmo che quelle non erano solo un fatto privato perché in ognuna di quelle lettere c'era qualcosa che riguardava ognuno di noi riguardava la sofferenza di un uomo innocente che subiva il carcere ingiustamente ricordava la sofferenza di un uomo che voleva essere interrogato e che mentre era mentre i pubblici ministeri tardavano a interrogarlo ricordava un uomo che nonostante tutto desiderava avere fiducia nella giustizia ricordava di un uomo che raccontava la desolazione e la condizione delle carceri ecco sul punto dopo il 2013 delle carceri si è più parlato delle condizioni carcerarie di come vivono i carcerati eppure Tortora ci avvertiva di quel mondo quel mondo è cambiato io credo che se i politici facessero una visitina nelle carceri italiane in quasi tutte le carceri italiane si renderebbero conto che i detenuti vivono in una condizione insopportabile eppure questo adesso non pare interessare a nessuno eppure Enzo Tortora lo ricordava e ricordava anche come quei detenuti gli conferissero la gran parte della forza e del calore umano che gli serviva per andare avanti il che cosa significa significa che in ogni uomo anche in quello che ha sbagliato c'è la possibilità di cambiare c'è la possibilità di dare conforto umano c'è la possibilità di essere risocializzato ecco Enzo Tortora in quelle lettere ci ha ricordato di come sia sbagliato ghettizzare chi ha sbagliato una volta nella vita ci ha ricordato quali siano stati gli errori e io credo che ricordare nelle scuole raccontare quello che è stato raccontare quanto è sbagliato un codice inquisitorio autoritario raccontare quanto è giusto ed è corretto che il processo si svolga davvero nella parità delle parti davanti a un giudice che deve essere distante da chi accusa e chi difende sia un servizio un servizio per evitare che errori nella vita ci saranno sempre ma gli uomini hanno il dovere di fare in modo che gli errori siano sempre di meno grazie ancora per l'invito grazie beniamino grazie davvero chiamo al microfono Alessandro Barbano giornalista già direttore del mattino autore di un volume nel quale ho trovato qualche elemento di collegamento con quello di cui discutiamo oggi che è l'inganno a te la parola grazie Alessandro grazie buongiorno io voglio partire da quello che ha detto Francesca anche perché secondo me la memoria di Tortora è preziosa ed è prezioso declinarla nella maniera più opportuna rispetto alle battaglie che Tortora fece in vita e che oggi siamo chiamati noi a sostenere anche in solitudine anche in minoranza il primo errore che noi dobbiamo evitare di commettere e lo ha detto Francesca è quello di considerare la vicenda di Enzo Tortora un errore giudiziario e anche di raccontarla come tale nelle scuole ai ragazzi perché vedete l'errore dell'errore qualcuno paga e invece qui nessuno ha pagato l'errore ha una dimensione quantitativa non voglio dire infinitesimale ma minima rispetto alla norma è una deroga della norma dell'eccezionalità della norma ecco un'azione penale che oggi nel mezzogiorno d'Italia in alcune regioni arresta 100 persone e ne condanna 70 e scusate ne condanna 30 20 10 può considerarsi ancora un errore io non credo che si possa considerare un errore tutto questo e non si può considerare neanche un crimine perché dico questo perché non solo perché i magistrati che hanno perseguitato Tortora non sono stati né inquisiti né hanno pagato sul piano professionale ma perché effettivamente la vicenda di Tortora si svolge nella fisiologia del processo italiano e quindi ci sono molti magistrati che potrebbero dirti sì ma in fondo Tortora ha avuto soddisfazione piena dalla giustizia italiana e alla fine è stato assolto e questo è il punto cioè la vicenda di Tortora è il paradigma della fisiologia del processo italiano non solo per lunghezza ma anche per esiti dieci anni fa a Isola Caporizzuto che è un paese della Calabria è stata arrestata un'ex sindaca si chiama Carolina Girasole è stata arrestata per concorso esterno in associazione mafiosa per aver fatto uno scambio per meglio dire politico elettorale con una cosca e ha proclamato dal primo giorno la sua innocenza ebbene questa signora dopo sei anni di processo di primo grado è stata assolta con la motivazione che l'impianto accusatorio era del tutto infondato in quanto campato su elementi quelli offerti dalla pubblica accusa inconsistenti se non addirittura contraria all'ipotesi accusatoria cioè il tribunale ha detto guarda che quello che tu vuoi provare portare come prove di colpevolezza sono le prove della sua innocenza ebbene questa donna è stata assolta ma è stata poi riprocessata in appello perché la procura ha fatto appello contro la sentenza di assoluzione e l'ha fatta con gli stessi elementi del primo grado e la signora Carolina Girasole in appello è stata assolta una seconda volta con la motivazione che gli elementi accusatori erano inesistenti o addirittura provavano assoluzione e cosa è successo a quel punto che sono passati otto anni e Carolina Girasole è uscita dall'incubo non è uscita dall'incubo perché la procura ha impugnato in Cassazione con gli stessi elementi per dimostrare che il giudice d'appello e il giudice di primo grado sbagliavano e la Cassazione cosa ha detto ha detto che gli elementi erano inconsistenti e l'accusa era infondata o addirittura provava l'innocenza dell'indagato dell'imputato Carolina Girasole è stata assolta dopo dieci anni ne aveva 50 quando è entrata agli arresti domiciliari per 162 giorni e ne ha 60 oggi perché dico questo perché io penso che negli anni successivi alla vicenda di Enzo Tortora e in particolare nella stagione trentennale della seconda repubblica si sia commesso un errore quello di considerare il problema della giustizia come il problema del rapporto fra politica e magistratura ancora oggi questo errore è presente nel dibattito pubblico cioè l'idea che la giustizia sia un problema per la politica importante quella romana quella quella di Berlusconi quella dei partiti eccetera invece la giustizia purtroppo è un problema nel rapporto fra azione penale e cittadino e cittadino Enzo Tortora era un punto di contatto fra diciamo il cittadino VIP e il cittadino comune era però più un cittadino comune come cittadino comune ha vissuto questo martirio sul piano personale io penso che questo lo dobbiamo recuperare questa coscienza e dobbiamo recuperare anche un'attenzione rispetto a quello che questa vicenda ci insegna perché guardate in questi giorni si sta discutendo di riforma della giustizia no? Alcune delle misure che sono state proposte dal governo per giungere a una giustizia più garantista più rispettosa dei diritti degli indagati e sono sono delle misure che riguardano solo alcuni mi spiego meglio è stata modificata la custodia cautelare l'adozione della custodia cautelare come sapete prevede un interrogatorio e poi prevede che è preventivo e poi prevede che sia un collegio di tre giudici a stabilire se l'indagato debba o non debba andare in garera e però c'è un problema tutto questo si applica solo per i reati meno gravi per i reati più gravi non si applica resta il vecchio regime è stato stabilito l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione e però l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione si applica solo per i reati meno gravi per i reati più gravi non si applica Enzo Tortora con le modifiche del governo Rordio sarebbe stato preso ugualmente alle tre del mattino da casa e portato il carcere forse non con le manette ai polsi ma era accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso un reato per il quale non ci sono diciamo le garanzie previste per gli altri reati e allora perché dico questo perché guardate che la giustizia nel mezzogiorno è la giustizia dell'antimafia non è un'altra giustizia e quindi la protezione dell'innocente del cittadino meridionale forse è meno importante o ha meno dignità della protezione dell'innocente del cittadino qualunque io penso di no e allora si sta affermando in questa stagione giuridica e civile del paese il doppio binario ha infiltrato anche il binario buono ha infiltrato anche il diritto con le garanzie perché c'è una giustizia per alcuni reati e una giustizia per altri reati non è solo il procedimento di prevenzione che determina un doppio binario ma c'è un doppio binario dentro il procedimento ordinario e allora se noi su questo non cerchiamo di fare una battaglia radicale sui codici sui codici di procedura e sui codici sul codici penale noi possiamo fare tutte le manifestazioni che vogliamo perché il CSM sia composto in maniera non correntizia perché le porte girevoli siano chiuse ma non cambieremo la giustizia perché Nordio questo l'ha detto il primo giorno salvo poi ancora purtroppo non adempiere a quell'impegno la riforma della giustizia parte dai codici e questo secondo me è un impegno che l'esperienza tragica di Enzo Tortora consegna a noi grazie grazie Alessandro una testimonianza accorata come sempre do la parola al professor Vincenzo Zenozenkovic che di questa storia conosce più di altri avendola vissuta in un ganglio particolarmente delicato quando il professore insieme con l'avvocato Cagliazza provarono a far valere le ragioni dell'imputato dell'ingiustamente processato Enzo Tortora poi magari ci dare a lui come andò a finire grazie professore grazie un particolare abbraccio Francesca Scopelliti assieme a Gian Domenico a Cagliazza giovanissimi avvocati cercammo di attivare il meccanismo della responsabilità civile del giudice come ha detto Francesca Scopelliti non si trattava di un errore giudiziario ma si è trattato di un intento doloso quando scartata la insostenibile diciamo teste chiave rappresentato dal pentito pandico recluso a Portoferraio essendo diventata evidente la sua non credibilità nel calugnatore seriale psicopatico si rovescia si nella si cerca nelle pattumiere della criminalità ordinaria e si trova il melluso di turno il quale riferisce di scambi di valigie di cocaina in cambio di valigie di soldi negli studi milanesi di Portobello cercammo quindi Gian Domenico Cagliazza ed io di rovesciare questa questa situazione di ottenere giustizia non soltanto penale ma anche giustizia civile dal tribunale l'unico risultato fu che Gian Domenico Cagliazza ed io fummo denunciati per calugna dai magistrati che avevamo convenuto in giudizio naturalmente lo fecero quando Enzo Tortora era morto aspettarono che fosse morto per poi denunciarci per calugna in qualche modo sabotare il giudizio nei loro confronti e naturalmente il giudizio civile fu segnato da una serie di scicanerie infinite passando ovviamente da una salvifica per i magistrati sentenza della Corte Costituzionale però il ruolo di Gian Domenico Cagliazza è mio e obiettivamente marginale vorrei ricordare chi ha lottato professionalmente come avvocato credo che vada ricordato lo straordinario impegno di Alberto Dallora di Raffaele della Valle che seguirono tutta la fase il primo grado l'appello la Cassazione quotidianamente con un impegno assolutamente straordinario dimostrando come l'avvocato debba operare e debba lavorare per dimostrare quello ai giudici a giudici faziosi basta pensare alla conduzione del giudizio di primo grado da parte del Presidente Sansone e cercare di mostrare la verità però al tempo stesso è necessario ricordare ricordare è stato appena fatto la figura del Consigliere Michele Morello l'estensore della sentenza d'appello e qui mi pare necessario per dimostrare che non si è trattato di un errore giudiziario ma quello che Francesca Scopelliti chiama un crimine giudiziario quando nelle ultime pagine nella penultima pagina della sentenza di questa lunga sentenza delle 502 pagine di sentenza Michele Morello cosa scrive solo solo quelli fin qui esposti sono i motivi per i quali Tortora va assolto con formula piena da tutte le imputazioni contestatili ulteriori argomenti che pur emergono scorrendo l'abbondante materiale processuale o sono irrilevanti o restano assorbiti da quelli trattati una sola osservazione ancora esercitare pressioni su questa corte è lusso che possono permettersi solo gli stolti ma dalla parte di Tortora la corte non si è imbattuta in si fatte persone è la preterizione di chi sta parlando di chi sta parlando se non della magistratura napoletana dei dei giudici dell'entourage giudiziario napoletano che hanno fatto pressioni sul giudice d'appello perché confermasse quella vergognosa sentenza di primo grado cinico mercante di morte allora sono passati 40 anni certamente c'è molto da fare però occorre sempre ricordare che qua ci sono due problemi da un lato quelli che in tribuna plaudono a questo tipo di giustizia in Parlamento che sostengono a spada tratta questo tipo di giustizia ingiusta e dall'altra parte non è che non si può ricordare uno il motivo di questo crimine giudiziario è dovuto a un semplice fatto che la corte costituzionale che evidentemente totalmente con totale oblio di Cesare Beccaria che forse qualche cosa l'aveva scritta avendo equiparato il procuratore della Repubblica la magistratura inquirente e avendo protetto la magistratura inquirente come se fosse quella giudicante mentre in tutto il mondo civile da Beccaria in poi è altra cosa è chiaro che ha fornito una patente di impunità non di immunità di impunità per questi crimini giudiziari che poi lo ha ricordato Barbano l'hanno ricordato altri si proseguono ogni giorno e non c'è qualcuno il quale chieda a soggetti che hanno tanto di nome e cognome dicendo ma scusami ma tu di queste cento persone che hai cento mille persone che hai messo in galera quante effettivamente sono state condannate uno due e la porta dovrebbe essere quella se un medico avesse un tasso di mortalità come ce l'hanno certi pubblici ministeri forse la giustizia civile interverrebbe anche quella penale quindi o c'è da cambiare la legge ma soprattutto ci sono da cambiare gli uomini grazie grazie professore chiamerei al microfono Riccardo Corbucci consigliere dell'assemblea capitolina grazie buongiorno grazie a tutti per l'invito vi porto il saluto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell'assemblea capitolina che rappresento 40 anni fa io avevo 5 anni sono stato figlio di un avvocato penalista di Roma e quando a 18 anni ho fatto il mio primo voto che ha anche diciamo avviato un po' la mia passione per la politica il mio primo voto è stato per i radicali di Marco Pannella proprio perché in quegli anni erano anni in cui la giustizia era un tema fondamentale negli anni delle stragi e quindi chiaramente erano gli anni in cui la coscienza politica di un giovane si faceva sul decidere da quale parte stare sul decidere se la politica potesse cambiare diciamo quello che non andava in termini anche di giustizia ecco su questo la vicenda quindi di Enzo Tortola per me è stato un elemento importante di avvio di questa passione per me che ho scelto sociologia la comunicazione di massa come indirizzo di studio di lavoro e l'ho ritrovato in tutti questi anni in cui ho fatto politica oggi sono orgoglioso di rappresentare il comune di Roma qui su questo tema perché credo che noi dobbiamo avere ben chiaro cosa possa accadere in una democrazia che è il momento più elevato di un sistema politico ma proprio perché la democrazia ci consente diciamo di essere liberi quando in una democrazia vengono meno principi come il garantismo la presunzione di innocenza io parlo della deontologia giornalistica di giusto processo la responsabilità dei magistrati di verificare con meticolosa attenzione i fatti raccontati dalle fonti siano fatti raccontati da pentiti o da semplici testimoni ecco in una democrazia quando viene meno il diritto diciamo di essere prima di tutto garantisti contro le persone diciamo che ovviamente sono oggetto di processi e si antepone il pur importantissimo diritto di raccontare un fatto ecco si deve tenere presente che non si può alledere la dignità di una persona calpiestarne i suoi diritti costituzionali addirittura in alcuni casi influenzare l'andamento delle indagini o manipolare l'opinione pubblica tutte cose che sono accadute nel caso di Enzo Tortora e sono accadute in altri casi in Italia io credo che le istituzioni e il sistema dell'informazione l'ho sentito dire negli interventi prima di me non sono soggetti esettici ma sono vengono incarnati da donne e da uomini e siccome l'errore è connaturato diciamo alla condizione umana è impossibile immaginare di poterlo evitare saremmo diciamo in errore per prima a pensarlo non lo possiamo eliminare l'errore però quello che può fare lo Stato quello che possono fare le istituzioni quello che può fare la politica e quello che hanno l'obbligo di fare è di normare e limitare con le leggi le conseguenze di quel possibile errore che è sempre presente in un sistema e quindi a mio avviso un arresto deve essere sempre attentamente ponderato un avviso di garanzia non può diventare una condanna nei titoli dei giornali come è accaduto in questi anni la pubblicazione di uno stralcio di un'intercettazione magari nemmeno penalmente rilevante non può diventare di per sé non può minare di per sé la vita pubblica e politica di una persona ecco io credo che negli anni più bui di quello che è stato il più grande errore giudiziario italiano ci sono stati ovviamente dei carnefici ma ci sono state anche tante persone che hanno invece messo la faccia per difendere Enzo Tortora da alcuni giornalisti che poi sono diventati i più grandi giornalisti italiani non a caso alcuni politici che sono diventati ed erano politici importanti gli avvocati che hanno fatto il loro lavoro e che hanno avuto la voglia ovviamente non solo di studiare le carte cose che troppo spesso non si fa nel nostro paese ma anche di confutare quelle che erano le testimonianze di denunciare quello che non tornava e di combattere per dimostrare che c'era stata un'ingiustizia io credo che a 40 anni di distanza però ci sono stati e ci sono ancora errori giudiziari più o meno gravi violazione degli diritti degli imputati disprezzo diciamo di quelle che sono le normali diciamo deontologie giornalistiche oggi abbiamo tantissimi codici del giornalismo però spesso oggi questi codici vengono comunque violati e quindi c'è ancora molta molta strada da fare per avere nel nostro paese quella che è una giustizia che noi diciamo una giustizia giusta però che cos'è una giustizia giusta? io credo che una giustizia giusta sia la capacità come dicevo di limitare le conseguenze della mala giustizia che in questi anni hanno minato io credo anche la credibilità nelle istituzioni del nostro paese la giustizia è uno dei poteri fondamentali del nostro paese e credo che per farlo sia arrivato finalmente il tempo per la politica tutta insieme di riformare la giustizia per renderci un paese più equo dove casi come quello di Enzo Tortora non debbono più esserci grazie grazie consigliere adesso chiamerei al microfono una persona che non ha bisogno di nessuna presentazione con noi Francesco Rutelli grazie buongiorno io sono qui per dare un tributo innanzitutto a Francesca Scopelliti e a tutti voi che in questi decenni avete proseguito una battaglia che non è una battaglia personale per una persona per la memoria di una persona ma è una battaglia politica per la trasparenza la legalità lo stato di diritto la civiltà nel nostro paese Enzo Tortora non è morto di vecchiaia Enzo Tortora è morto per le sofferenze che gli sono state inflitte in un caso indegno costruito come ricordava Enzo Zeno poco fa deliberatamente e la sua uscita dall'hotel Plaza quel giorno in manette è una pagina indelebile della storia della nostra Repubblica per questo al valentissimo rappresentante del sindaco e consigliere comunale vorrei dire non so se qui c'è effettivamente una stazione di tassi però forse una di queste due insegne il Comune di Roma potrebbe sostituirla con una iscrizione che ricorda l'arresto di Enzo Tortora e lo lasci qui per sempre a memoria come ricordiamo in quella casa è vissuto il Garibaldino qui dietro si ricorda la dimensione delle spettanze di Santi Carlo e Ambrogio al corso quante iscrizioni abbiamo per le vie di Roma che ricordano le pagine importanti della vita di questa città questa manca secondo me sarebbe molto bello se voi trovaste un modo non è giusto affiggerlo sull'hotel Plaza perché che lascerebbe in qualche modo uno stigma a persone che erano innocenti diciamo dello sviluppo di quel giorno Enzo dormiva qui e uscendo è stato portato in ceppi verso quello che ha dovuto soffrire quindi io penso che tutti noi siamo qua anche per ricordare la necessità di ricordare e di farlo in un modo consapevole e saggio ho portato con me un volume che ho a casa il caso Italia non è il caso Tortora che i radicali al Parlamento europeo ricavarono da una conferenza da un convegno appunto 23-24 ottobre 1984 chi presiedeva il comitato Leonardo Sciascia eletto eurodeputato i radicali allora erano Roberto Cicciomessere che voglio ricordare anzi lui curò in particolare questa pubblicazione naturalmente Enzo Tortora e Marco Pannella che è stato il colui che ha condotto questa battaglia incessantemente però è bello vedere che qui noi troviamo socialisti come Gianni Baggetbozzo come Mario Didò che presiedeva Mario Zagheri e comunisti come il deputato Alberto Moravia come Maurizio Valenzi ed altri liberali come Ias Gabronski democristiani come Maria Luisa Cassan Magnago che era vicepresidente del Parlamento Europeo fu un caso molto importante Tortora rimase zitto durante quel convegno e cosa dichiarò all'atere della conferenza in cui parteciparono parlamentari di ogni orientamento e di cui voglio ricordare uno che a me sta particolarmente a cuore Giri Pelican il protagonista della primavera di Praga contro i carri armati sovietici nella sua città erano altri anni erano altre epoche storico-politiche Tortora leggo due righe di quello che dichiara non parla in questo convegno è il congressista più diligente lo dico ai giornalisti delle agenzie di stampa perché è un'agenzia si fa anche la storia con le cronache congressista più diligente Enzo Tortora sempre attento sempre a prendere appunti il neo eurodeputato accusato dalla magistratura italiana di appartenere alla nuova camorra organizzata ha preferito non prendere la parola al convegno sulla giustizia in Italia per quanto riguarda la sua situazione personale dice qualcuno insinuava che dopo la mia elezione sarei fuggito invece eccomi qua quattro giorni addietro e il 25 ottobre dell'84 nell'emiciclo di Strasburgo ho supplicato di concedere l'autorizzazione a procedere nei miei confronti chiesta dalla magistratura italiana l'altro giorno ho fatto lo stesso davanti alla commissione giuridica di Bruxelles in entrambi i casi ho iniziato il mio discorso ai colleghi con un vi supplico e credo che dopo le mie pressioni il parere favorevole verrà dato entro due mesi che significa che Tortora tra due mesi tornerà in manette no che quando verrà celebrato il suo processo lui si presenterà in veste di imputato per farsi giudicare puntiglioso Tortora precisa avrei potuto congelare la situazione mia per altri cinque anni la durata del mio mandato non l'ho fatto e credo che la mia scelta sia piuttosto anomala se penso a tanti casi parlamentari italiani ma mi sto occupando come europarlamentare dei problemi della giustizia italiana non ho paura voglio affrontare il mio processo e voglio la giustizia giusta vera e da questa scaturisca la mia libertà ecco noi siamo qui per ricordare che fu una battaglia politica qui voglio ricordare oltre a Ciccio Messere che ho ricordato tutti i radicali che sostenono questa battaglia penso ad Adela e Daglietta che non c'è più penso a Emma Bonino che porterà manderà un saluto attraverso Francesca voglio ricordare Gianfranco Spadaccia che anche ci ha lasciato da poco Gianfranco nel suo libro sulla storia dei radicali ricorda che fui io a proporre Francesco l'ha ricordato fui io a proporre la candidatura di Anzio Tortola al Parlamento Europeo non non tuttissimi erano d'accordo all'inizio ma non per evitare che si ripetessero anche casi precedenti portammo avanti dentro il partito radicale questa battaglia e Gianfranco l'appoggiò naturalmente poi tutti furono entusiasti e divenne la sfida per far parlare far capire al nostro paese cosa significa una giustizia giusta qualcosa che ancora oggi è una priorità nella nostra Repubblica e il modo migliore per ricordare Enzo è ricordarlo oggi e fatemi dire domani magari passando qua avremo una insegna che ci ricorda di quella pagina nera perché da quella pagina nera è scaturita una luce che noi vogliamo continui a illuminare le intelligenze le coscienze le azioni pubbliche la consapevolezza personale di ciascuno di noi vi ringrazio grazie Francesco Rutelli davvero grazie è con grande piacere che do la parola all'avvocato Francesco Petrelli che non vedo eccolo già segretario dell'Unione direttore della lista di difesa grande avvocato e posso dire grande amico a te Francesco grazie grazie a tutti dell'invito vedete io non vorrei che questa nostra testimonianza questa mattina la nostra la vostra presenza la voce rotta di Francesca Scopelliti nel ricordare le parole di Enzo Tortora rimanesse per l'appunto solo una testimonianza rimanesse magari sì una di quelle pagine più nere del sistema giudiziario come si legge qui accanto a me ma fosse per l'appunto una pagina nera che sia lecito voltare travolta da altre pagine magari con una scrollata di spalle o magari scuotendo la testa certo il caso Tortora è rimasto inciso nella memoria di questo di questo paese non solo come il più eclatante e drammatico errore giudiziario ma anche come un emblematico esempio della degenerazione del nostro sistema giudiziario quell'intreccio tra le storture del nostro vecchio codice inquisitorio che si coniugarono terribilmente con il fenomeno ancora non regolato del cosiddetto pentitismo e non è certo un caso se nel 1983 nell'agosto di quell'anno si poté leggere sulle pagine della Repubblica una dichiarazione una lettera aperta a firma di Piero Angela Giorgio Bocca Umberto Veronesi Italo Calvino e molti altri intellettuali e in quella lettera si leggeva questa dichiarazione vuole sottolineare la necessità che al diritto processuale italiano vengano apportate urgenti riforme a totale garanzia della dignità e della libertà individuale e quelle riforme vennero dopo pochi anni venne effettivamente varato nel 1988 il nostro nuovo codice accusatorio ma vedete di quel nuovo codice accusatorio noi ancora attendiamo la vera attuazione e attendiamo quelle riforme che siano capaci di attuare quella che veniva appunto definita la totale garanzia della dignità e della libertà individuale Tortora scrisse in una delle sue lettere dal carcere a Francesca a nessun umano credo è capitata una storia così forse nel medioevo ma Enzo Tortora si sbagliava perché storie di quel genere non solo erano capitate prima che a lui ad altri e continuavano a capitare ma continuano a capitare ancora oggi nelle vicende dei nostri processi nelle storie delle nostre carceri capiterà ancora quello che Enzo Tortora ricordava ancora in un'altra lettera quando diceva sia qui l'impressione che dopo aver messo le manette a Tortora stiano adesso cercando le ragioni del provvedimento metodi modalità di gestione dei codici e delle norme che certamente non possiamo ritenere relegate a quel caso relegate a un codice inquisitorio che ormai è tramontato e sono cose che capiteranno ancora fino a quando noi non torneremo a mettere al centro del processo finalmente l'uomo l'accusato con una riforma radicale della giustizia e della magistratura noi siamo qui a testimoniare per l'appunto che crediamo nella possibilità di una giustizia giusta crediamo nella possibilità di una nuova magistratura di un nuovo processo e forse coloro che non sono qui con noi a testimoniare queste cose vuol dire che nell'uomo nel giusto processo in una nuova magistratura non credono affatto grazie Francesco grazie davvero per il tuo contributo guadagnerà il microfono adesso la giornalista Barbara Palombelli a cui credo chiedo di intervenire grazie ci sono due livelli di racconto nel caso di Enzo Tortora il primo è personale io allattavo perché avevo il figlio piccolo e Francesco si è come dire incarnato in Enzo Tortora in quelle ore eravamo ragazzini eppure abbiamo vissuto quell'esperienza come una missione che continua ancora oggi perché in quel momento lui ha convinto con fatica voglio dirlo perché faccio il giornalista non voglio essere ipocrita anche le figlie che non volevano e tanti altri nel partito che non pensavano fosse giusto ricorderete tutte le battaglie radicali per il reato di opinione per gli arresti del 1979 sembra preistoria ma siamo ancora lì perché la giustizia ancora non è giusta e questo credo che lo dobbiamo dobbiamo Enzo Tortora al suo restare imputato un grande ringraziamento per tutti noi tutti noi giornalisti siamo finiti prima o poi anche noi nel frullatore delle intercettazioni nel frullatore del pentito che dice una cosa sbagliata della trascrizione di una intercettazione telefonica a me è capitato varie volte capita male tutti noi abbiamo avuto le case perquisite improvvisamente alle 5 di mattina con i bambini che piangevano perché magari si cercava un pezzo di carta ecco l'impressione di aver avuto una giustizia ingiusta purtroppo continua e continua e come diceva Marco Pannella bisogna essere garantisti sempre anche quando la persona sotto processo è antipatica e devo dire che a molti italiani soprattutto quelli di sinistra o quelli militanti come eravamo noi da ragazzini Enzo Tortore era antipatico voglio dire anche questo non possiamo non negarlo non era un idolo di noi sessantottini era la controparte perché era un presentatore un conduttore un giornalista però di programmi popolari che noi non vedevamo questo va detto perché altrimenti non è che il garantismo va esercitato soprattutto contro chi è diverso da noi contro chi è finito non è che dobbiamo difendere madre Teresa abbiamo difeso Toni Negri le cui idee non concidevano con quelle del partito radicale abbiamo difeso personaggi che non somigliavano affatto al modello ideale di militante politico e questo è una lezione che Enzo Tortora ci consegna lui ci consegna il dovere di esercitare il garantismo sempre e comunque anche quando l'imputato protempore è una persona che detestiamo una persona che non c'è simpatica una persona che non rappresenta niente per noi è proprio lì che si misura perché è molto facile difendere il compagno di partito l'amico il vicino di casa no dobbiamo difendere la persona che in quel momento è scomoda e io mi domando ancora oggi come mai tantissimi giornalisti me lo sono domandato ieri sera in televisione con Vittorio Feltri con altri come mai non scattò a nessuno l'idea che di fronte a una gendina appiccicosa sporca di un pentito della camorra si sia demolita una personalità che per fortuna Enzo Biaggi Vittorio Feltri e Piero Angela loro tre che erano stati giornalisti erano coetane erano amici solo tre contro la massa di gente che si è avventata ma tutti i giorni c'è un arresto contro i quali si avventano io voglio dire che ogni giorno dobbiamo esercitare il garantismo anche per il ragazzo youtuber è faticoso perché lo vorremmo lo vorremmo rieducare vorremmo mettere indietro il nastro lo dobbiamo esercitare anche lì dobbiamo capire se veramente è successo quello che raccontano i colleghi e quello che raccontano i verbali di polizia purtroppo questo è un esercizio però voglio dire a Francesca e a tutti voi che siete qui sono battaglie che si conducono anche in pochi ma che vanno condotte perché Enzo Tortora ci ha vaccinato per sempre contro le ingiustizie e l'ha fatto rimanendo elegante ieri sera abbiamo rimandato alcune delle immagini molte non le abbiamo potute mandare perché sono vincolate dalle figlie da Gaia che ha ereditato questo diritto ma vorremmo vederle di più perché lui è rimasto di un'eleganza di una perfezione e con Francesco lo vedevamo vedevamo la sua schiena che si piegava vedevamo i segni sul viso pensate è morto a 59 anni un'età che oggi si definisce un ragazzo un uomo di 59 anni eppure l'abbiamo visto sfiorire ma partecipare sempre alle iniziative da liberale io non so se sia mai realmente diventato radicale probabilmente è rimasto quello che era un gentiluomo liberale un gentiluomo liberale che ci ha vaccinato per sempre e questo vaccino io Francesco i militanti del partito radicale ma anche tanti italiani ce l'hanno nel sangue e dobbiamo onorarlo tutti i giorni che Dio manda in terra grazie a Francesca Scopelliti grazie Barbara Calombelli liberale perché ho studiato radicale perché ho capito così mi pare dicesse all'epoca Enzo Tortora prende il microfono Lorenzo Zilletti avvocato dell'Unione delle Camere Penali Italiane direttore del Centro Marongiu a cui do volentieri la parola grazie Lorenzo sì grazie già questo nome Aldo Marongiu si può ricollegare immediatamente a Enzo Tortora negli stessi anni Aldo ha vissuto la stessa storia di Enzo Tortora pentiti pentiti che i pubblici ministeri facevano parlare tra loro pentiti che determinavano carcerazioni infinite processi finiti con l'assoluzione maimè anche nel caso di Aldo come di Enzo con la morte prematura per una malattia su cui non dobbiamo stare a discutere di nessi di causa non c'è bisogno delle sezioni unite e francese per dire qual è il nesso di causa tra quelle morti e quelle vicende detto questo aggiungo poche cose perché molto è stato detto prima di tutto aggiungo un nome un nome di quelli citati da Barbara Palombelli che sulla stampa pur non essendo un giornalista ma collaborando attivamente a un giornale prese insieme a Biagi a Angela a Vittorio Feltri le difese di Tortora le difese di Tortora perché capì immediatamente che quello non era un errore giudiziario che si preparava ma era uno scempio è Italo Mereu storico del diritto professore dell'università italiana di storia del diritto collaboratore del Sole 24 Ore che condusse grazie anche al sostegno del direttore da allora che voi forse ricorderete Gianni Locatelli una battaglia nel nome delle garanzie e del garantismo in favore di Enzo credo che sia doveroso aggiungere questo nome un'altra riflessione e poi davvero chiudo perché devono parlare altri perché hanno parlato in molti 40 anni è vero sono cambiate le norme alcune diciamo hanno ottenuto il nostro pieno gradimento altre non ci soddisfano mi permetto di dire che ancora l'attuale sistema di responsabilità civile è un sistema deficitario quindi anche la riscrittura della legge Vassalli approvata dopo il referendum effetto della vicenda di Enzo non basta è insufficiente la strumentazione che regola il procedimento disciplinare nei riguardi dei magistrati però in questi 40 anni in cui le norme sono cambiate qualcos'altro purtroppo non è cambiata ed è la mentalità la mentalità di quella italietta che non sa che non si interroga che non vuole sapere come scriveva Enzo dal carcere a Francesca sottolineando il volgare disinteresse di cui la maggior parte di questo paese si disinteressa dei processi di quello che avviene nelle carceri di come viene amministrata la giustizia in questi 40 anni è mancato alla stampa è mancato alla magistratura di fare davvero i conti fino in fondo con questo caso ancora oggi siamo a discutere ad accapigliarci su quanto vogliamo pubblicare nella fase delle indagini degli atti di inchieste che poi magari sono destinate a finire con l'assoluzione vergogna vuol dire che continuate a pensare che fare i velinari delle procure della Repubblica sia in linea con quello che è successo 40 anni fa ad Enzo e la magistratura la magistratura non ha affatto i conti non vedo qui lo ha detto bene Francesco Petrelli accanto a noi tanti magistrati e invece dovrebbero riflettere su quella vicenda dovrebbero pensare fino in fondo su quella vicenda dovrebbero interrogarsi non solo permettetemi sul perché qualcuno di loro ha fatto carriera raggiungendo vertici negli uffici giudiziari ma si dovrebbero interrogare sul perché un corpo elettorale rappresentato dall'intera magistratura elesse addirittura al consiglio superiore della magistratura i PM che avevano gestito quell'inchiesta li hanno eletti al CSM vuol dire che li hanno scelti come loro rappresentanti io vorrei sentire una parola di autocritica dopo 40 anni su questo punto li hanno portati e chiudo a quello che Enzo chiamava l'attico del potere giudiziario noi nell'attico del potere giudiziario vorremmo vedere davvero una magistratura diversa una magistratura come quella che auspicava Francesco Petrelli che sia davvero accanto a noi nel difendere la Costituzione il giusto processo le garanzie un saluto e un abbraccio a Francesca Scopelliti grazie Lorenzo temo che non avremo autocritica così come non abbiamo avuto scuse se non fuori tempo massimo avrebbe dovuto essere con noi Emma Bonino che per un piccolo intoppo personale non ci ha potuto onorare della sua presenza fisica ma ha mandato uno scritto che Francesco Scopelliti adesso vi leggerà grazie dice Emma Bonino provate a mettervi nei panni di un uomo innocente che nel cuore della notte viene arrestato e trasformato pubblicamente in un mostro provate a immaginare la solitudine la rabbia la frustrazione il senso di smarrimento per i propri cari per i colleghi per gli amici i più giovani non ricordano l'arresto del 17 giugno 1983 di Enzo Tortora di quel celebre conduttore televisivo che da uomo per bene divenne camorrista per un errore anche se la parola è impropria giudiziario ricordo una frase di Camilla Cederna che all'epoca mi diede molto fastidio se qualcuno viene arrestato alle 3 del mattino qualcosa l'avrà pur fatta dopo mesi di galera di sofferenza e dopo una battaglia politica con i radicali con Marco Pannella e tutti gli altri Tortora ebbe il riconoscimento della sua innocenza ma l'atteggiamento colpevolista e giustizialista che lo colpì e che ancora oggi ha grande diffusione dimostra che siamo molto lontani da una concezione di giustizia giusta bisogna ricordare sempre che ciascuno è innocente fino a quando non ne viene data colpevolezza con sentenza definitiva e l'errore giudiziario ai danni di Tortora dimostra come l'approccio colpevolista non porti da nessuna parte dopo 40 anni siamo ancora qui a spiegare che senza una giustizia davvero giusta non c'è libertà Emma Bonino grazie Francesca e grazie ad Emma che salutiamo da qui con un applauso augurandole una pronta ripresa e interviene adesso il consigliere dell'ordine degli avvocati di Roma l'avvocato Vincenzo Comi già presidente della Camera Penale di Roma è emozionante è veramente sentita la presenza e la partecipazione a questa iniziativa oggi come allora gli errori giudiziari proseguono senza sosta la storia sembra non aver insegnato nulla ma la testimonianza e il ricordo di tutti noi è sicuramente un presidio di quella cultura garantista della quale ci dobbiamo fare portatori senza sé e senza ma è un dovere è un nostro dovere ed è un impegno assolutamente doveroso dobbiamo trasmettere queste esperienze queste conoscenze a chi non l'ha vissuta e contribuire in tutti i modi a diffondere questi valori di questa cultura nell'interesse dei cittadini io sono ho sentito tanti interventi tante considerazioni profonde e quindi veramente cercherò di dare solo qualche spunto ma sono qui perché sento profondamente il senso che non dobbiamo dimenticare non dobbiamo dimenticare e dobbiamo contribuire a trasmettere a tutti soprattutto ai giovani questa storia questa drammatica storia italiana e lo dobbiamo fare io sento ancora di più il senso di responsabilità nella funzione dell'avvocato che per indole per cultura è portatore di un'idea garantista della giustizia dobbiamo contribuire a difendere i diritti dei cittadini coinvolti nel processo per un processo giusto nel rispetto dei principi costituzionali io settimanalmente partecipo a questa iniziativa del Consiglio dell'Ordine nella mia qualità di consigliere di far giurare i nuovi giovani i nuovi avvocati che si iscrivono al Consiglio dell'Ordine e che vengono iscritti ecco la sensazione è che tutti dovrebbero conoscere questo dramma che ha vissuto Enzo lo vorrei ricordare a tutti i giovani vorrei fare qualcosa e lo faremo perché il Consiglio dell'Ordine faccia comprendere la rilevanza di una certa cultura e di una mentalità nell'approccio alla giustizia e l'interesse dei giovani per queste questioni dei giovani avvocati che si affacciano alla professione la storia di Enzo Tortora nella sua estrema drammaticità rappresenta l'esempio di quella giustizia ingiusta che tutti noi dobbiamo denunciare questo vorrei dire vorrei far capire a chi si affaccia alla professione ma soprattutto perché Enzo Tortora sì è uno dei più grandi errori giudiziari che c'è stato in Italia ma non è il più grande errore giudiziario è il più conosciuto errore giudiziario e allora dobbiamo impegnarci anche per quelli per tutti quegli altri errori giudiziari che quotidianamente viviamo oltre ad essere grati ad Enzo Tortora per aver raccontato questa sua vita e quindi aver dovuto ripercorrere quelle grandi sofferenze che ha vissuto lui e la sua famiglia io ero un ragazzo quel 17 giugno 1983 e ovviamente solo col tempo ho potuto comprendere la rilevanza e il peso della tragedia sono passati tanti anni sono cambiate tante cose è cambiato il codice tante conquiste ma ancora c'è molto da fare e solo per ricordare la carcerazione preventiva come strumento di pressione di allora o anticipazione della pena che ancora oggi non si disincaglia rispetto a questa idea culturale così come le condizioni carcerarie le condizioni delle carceri che ancora oggi rimangono quella di scarica sociale che rende la pena illegale il dramma umano della violenza della giustizia penale e il peso di queste situazioni che incidono irrimediabilmente sulla vita di chi la subisce e su tutta la famiglia che lo circonda gli effetti distorsivi del processo mediatico sulla vita delle persone e altrettanto di soggetti che ruotano intorno alle persone e che ovviamente non c'entrano niente dal 17 giugno 83 ne è passata acqua sotto i ponti ma se oggi siamo qua è perché ancora c'è molto da fare noi ci siamo e continueremo a ricordarlo e a testimoniare la sua impegno e la sua sofferenza grazie grazie Vincenzo Comi grazie davvero responsabile della comunicazione dell'Unione delle Camere Penali italiane e l'avvocato Giorgio Varano che quindi sul tema avrà qualcosa di specifico da raccontarci sì grazie a tutti numerose persone presenti anch'io avevo cinque anni quando Enzo Tortora fu arrestato e quello che mi ha sempre colpito in lui è il suo coraggio per capire quel periodo consiglio a tutti di vedere uno speciale un documentario su un famoso caso di cronaca un delitto avvenuto a Napoli esattamente nello stesso periodo che è il delitto di Ponticelli è interessante perché le dinamiche furono Enzo Tortora fu arrestato più o meno nello stesso periodo e le dinamiche questo documentario racconta le dinamiche della formazione della fase delle indagini della formazione della prova di quel periodo uno di questi ragazzi arrestati racconta che mentre era in caserma la famosa caserma pastrengo a un certo punto viene avvicinato da quello che lui ritiene essere un carabiniere in borghese con una canotta gialla che gli prende il volto tra le mani e gli chiede ma perché non confessi lui risponde io non ho fatto niente non ho nulla a confessare e questo che lui riteneva un carabiniere gli dà una testata sui denti spaccando gli denti li ha ancora rotti tempo dopo mentre era in carcere e guarda la tv assiste a un servizio sul processo per l'omicidio di Giuseppe Salvia vice direttore di Poggio Reale riconosce la persona quello che lui riteneva un carabiniere infatti dice ai suoi amici ma quello è il carabiniere che mi ha arrestato bene quella persona era Mario Incarnato un boss della Camorra uno degli accusatori di Tortora che era in caserma che di fatto come se gestisse i rapporti con le persone che dovevano testimoniare la cosa incredibile è che si riteneva all'epoca e ci furono anche delle dichiarazioni dell'allora presidente dell'Associazione Nazionale Magistratica che quello che il caso Tortora fosse dettato dal tipo di processo che c'era all'epoca l'inquisitorio e che con il nuovo codice di rito tutti questi casi non ci sarebbero stati bene mi ricollego a quello che diceva prima Lorenzo Zilletti possiamo cambiare le norme ma le norme non cambiano la mentalità quando è stato abolito il delitto di onore non sono terminati i delitti di onore il problema è proprio quello e l'altro problema è proprio il rito quello a cui faceva riferimento sempre Lorenzo cioè è con le regole del processo quando incidendo sulle regole del processo che si incide sulla giustizia molto di più che con le norme di diritto sostanziale ed è emblematico il fatto per esempio ritornando al caso di Ponticelli che questi tre ragazzi hanno chiesto per tre volte la revisione che gli è stata negata che nel nostro ordinamento è previsto l'istituto della revisione ma non è previsto un altro istituto cioè quello dell'annullamento del processo quando sono state violate le regole porto l'esempio di un famoso caso quello di Rubin Arrican Carter forse alcuni di voi hanno visto anche il film che racconta la storia con Denzel Washington che a distanza di 25 o 30 anni vide il suo processo annullato e fu scarcerato perché un giudice ebbe il coraggio di dire che erano state violate le regole noi questo nel nostro ordinamento non lo abbiamo ed è quello che è accaduto molto semplicemente quello che è accaduto a Tortora Enzo Tortora dove furono violate le più elementari regole anche all'epoca di quel rito di tipo inquisitorio ed è quello che può avvenire quotidianamente quotidianamente nella fase delle indagini soprattutto a tante persone che non hanno il nome il coraggio l'importanza e devo dire l'intraprendenza che avebbe Enzo Tortora e quello che appunto lui disse concludo dicendo che lui parlava a nome dei tanti che non potevano parlare e mi piace ricordare per concludere proprio il coraggio di Enzo Tortora perché lui fu a parlare terminato alla sua terribile vicenda fu lui a parlare di questi tre ragazzi del delitto di Ponticelli di cui si interessò ragazzi che sono stati condannati all'ergastolo hanno fatto 27 anni di carcere prima di uscire anche perché all'epoca l'ergastolo era ergastolo non c'era possibilità di uscire e poi successivamente e quindi il coraggio di Enzo Tortora che è il coraggio che dovremmo avere non tanto tutti noi ma chi va a decidere sulla vita delle persone e cioè quello che appunto ha detto oggi in tanti sui magistrati perché il coraggio dell'autocritica che è mancato e che manca sempre è il primo passo verso una giustizia giusta ringrazio e saluto Francesca Scopelliti e qui e grazie grazie Giorgio grazie del tuo intervento siamo arrivati alla fine chiude in grandeur il segretario dell'Unione delle Camere Paralite Italiane Eriberto Rosso a cui per l'ultima volta do la parola non prima di aver ringraziato tutti quelli che sono stati con noi quest'oggi per il contributo che hanno dato che ha reso questa una vera testimonianza di quello che accadde 40 anni fa a te la parola Eriberto e grazie ancora sì grazie grazie consentitemi in chiusura a nome dell'Unione delle Camere Penali Italiane di ringraziare la Fondazione Tortora la Camera Penale di Roma che ha voluto con noi questo evento il Presidente Scalise l'Avvocato Belcastro che ha avuto questo ruolo di introduttore e di gestore di questo di questo di questo podio noi abbiamo voluto questa manifestazione perché abbiamo inteso non solo ricordare ma abbiamo inteso anche denunciare lo hanno detto in tanti nei loro interventi in realtà al di là delle norme dei sistemi processuali il tema del nostro paese e della nostra macchina giudiziaria della gestione dei pentiti è un tema assolutamente attuale la vicenda che ora Giorgio Varano ricordava è anch'essa emblematica la non responsabilità di chi compie determinate scelte che poi hanno conseguenze devastanti sulla vita delle persone debbono essere denunciate debbono essere poste all'attenzione e continuamente noi avvocati penalisti avvocati soggetti processuali che garantiscono il rispetto delle regole nel processo questa battaglia conduciamo ma la vicenda di Tortora è anche una vicenda specifica Giorgio Bocca scrisse il più eclatante caso di macelleria giudiziaria questo noi non lo dobbiamo dimenticare nella sua emblematicità quella storia umana è una storia che deve essere assolutamente ricordata anche perché questa storia è una storia che ha una sua anomalia non vi è una forzatura giudiziaria inaccettabile finalisticamente indirizzata allo scoperchiamento di chissà quale caso o vicenda che riguardi la storia della nostra Repubblica no è una vicenda che si costruisce a freddo su un personaggio in relazione alla sua unica responsabilità non è una vicenda che costruisce politicamente evidentemente una pagina o tenta di dare una risposta certamente non corretta nei modi nei tempi e nella sede giudiziaria ma è un qualche cosa di ancora peggio di ancora peggio se possibile è andata così quella vicenda sì è andata così e noi siamo qui anche anche per questo Giandomenico Cagliazza il nostro presidente non ce l'ha fatta essere presente qui le ferrovie delle Stato glielo hanno impedito i tempi delle trasferte sono tali che non gli hanno consentito di rientrare a Roma da una nostra iniziativa in Calabria io in chiusura di questa nostra manifestazione vi porto il suo saluto voi tutti del mondo dell'unione del mondo della politica potete immaginare quanto Giandomenico avrebbe voluto essere qui e quanto in realtà sia qui con noi voglio solo ricordare che Giandomenico oggi pubblica su Riformista un ricordo quasi privato di Enzo Tortora e lo dico solo perché è assolutamente aderente a quella ricostruzione che tanti hanno richiamato e che Francesca Scoppelliti ha richiamato di quell'uomo gentile ma anche assolutamente determinato e protagonista non solo di quella vicenda giudiziaria negativa ma di quella battaglia politica alla quale noi tanto tanto dobbiamo vi ringrazio per essere venuti grazie